Gnocchi di spinaci con salsa di noci e pancetta. Questa ricetta è una variante gustosa e nutriente degli gnocchi di patate. Gli gnocchi di spinaci sono una versione più leggera e colorata, il cui sapore viene esaltato da una salsa di noci e pancetta, per un piatto unico ricco e saporito ideale per la stagione di marzo. Per preparare gli gnocchi di spinaci con salsa di noci e pancetta occorrono, spinaci, patate, farina, noci, pancetta e un pizzico di sale. Lessare gli spinaci e strizzarli Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle con uno schiaccianoce Unire gli spinaci schiacciati alle patate e alla farina, in modo da ottenere un impasto morbido, ma consistente. Stendere l'impasto su un piano di lavoro infarinato e ricavare gli gnocchi con l'aiuto di una forchetta. Cuocerli in acqua salata, quindi scolarli e tenere da parte. In una padella antiaderente far rosolare la pancetta tagliata a dadini. Unire le noci tritate e far amalgamare con la pancetta. Versare la salsa di noci e pancetta sugli gnocchi di spinaci e servire caldo.